Titolo del 2015, ebbene sì, quest'oggi per la raccolta delle mod da provare assolutissimamente sia su PC sia molte volte anche su console arriviamo su questo videogioco, un altro videogioco di Bethesda, un altro videogioco che nonostante abbia i suoi sette anni adesso sta continuando a essere importantemente supportato dalla community che di mese in mese, settimana in settimana, giorno in giorno continua a darci qualcosa di nuovo, mancava solamente lui all'appello, me l'avete fatto notare sotto nei commenti so che questo videogioco, i titoli di Bethesda vi piacciono, volete continuarli a giocare e allora io vi darò merce fresca vi darò le mod che vi permetteranno di godere questo titolo ancora e ancora per tante ore con tanti nuovi progetti, con tanti nuovi miglioramenti, con tante nuove aggiunte a quest'oggi ne ho trovate cinque che vanno a toccare come sempre per iniziare un po' il tutto il gameplay, la grafica, meccaniche di gioco e che dire, basta, basta le ciance e iniziamo immediatamente a buttarci dentro a questa nuova avventura, a queste nuove mod che mancavano nella nostra collezione di Top of Gaming benvenuti e voglio iniziare con nuove armi, nuove armature, nuove pistole beh ragazzi, ovviamente il mondo di Fallout al suo interno vi dà la possibilità di poter scegliere tantissime armi vero? Bene, adesso i modder hanno deciso di aggiungere non solo shotgun, non solo pistole, ok? ma ad esempio nuove armi laser le abbiamo, giusto? e allora perché non fare anche un'arma mili corpo a corpo laser o comunque che in qualche modo ci diano l'effetto di neon e energia che fuoriesce da loro? ed eccola qua, la mod si chiama A Taste of Blue ed è essenzialmente quello che state vedendo un insieme di tantissime armi che al suo interno presentano non solo dei neon, ok? per renderle un pochetto più belle e vivaci ma no, hanno anche possibilità e attacchi molto particolari l'uno dall'altra vedete abbiamo una specie di tirapugni abbiamo una super pistola, abbiamo a disposizione un'ascia e tutto questo per diverse forme, diversi colori e diverse rarità eccoli qui in un'unica immagine tutto quello che è stato aggiunto con questa piccola e importantissima patch del genere ce ne sono davvero tanti su Fallout ma per iniziare ho deciso di puntare a questa perché mi sembrava un pochetto più colorata ovviamente tutte le mod di cui parliamo si trovano nel sito Nexus Mod e vi basta semplicemente andare nella sessione di Fallout nella sessione Mod oppure scrivere in alto il nome sopra indicato installate i file seguendo un attimino quello che viene chiesto dai modder ed essenzialmente si trattano di eseguibili oppure di sostituzione del file e voilà il gioco è fatto ed ora tocco un punto dolentissimo di Skyrim o comunque Fallout o comunque Bethesda quello che state vedendo sono essenzialmente i personaggi prima e dopo l'utilizzo delle mod guardate l'espressione come più accigliata guardate come la faccia, il naso, la bocca si muovono con più emozioni, con più possibilità insomma danno più espressività al tutto una cosa che sicuramente quelli di Bethesda non avevano fatto molto bene nel loro game vanilla ed è quindi cose buone e giuste dare più profondità a tutti gli NPC e anche al nostro personaggio installando la mod expressive expression vedete è stata davvero molto visualizzata e davvero molto scaricata la mod, le immagini della mod vi fanno vedere essenzialmente cosa è cambiato questa è la versione base, la versione vanilla bene, abbiamo una versione accigliata, cattiva con o la bocca chiusa oppure digrignando un po' i denti insomma sono stati fatti dei buoni miglioramenti vogliamo vedere il sorriso? oh eccola qua, nella versione vanilla sembrava davvero il Joker almeno nella versione moddata abbiamo una bocca che non è larga come la prima oppure un bel sorriso a 32 denti la cosa davvero molto interessante che mi è piaciuta davvero tanto è che in realtà nella versione vanilla i denti all'interno di ogni PC ogni personaggio ci sono, ok? cosa hanno fatto i modder? beh, sono andati a ritoccare anche quelli morale della favola cercando di gestire meglio le labbra e gestendo meglio i denti le espressioni facciali sono decisamente migliori ovviamente il tutto delle espressioni ha a che fare con il personaggio, le palpebre e i movimenti facciali il modder in questione SQR17 beh, devo essere sincero, ne ha fatti davvero tante di mod varie ed eventuali che pensate, anche una per il seno ma a parte questo, seguitelo perché essenzialmente ha portato molte profondità appunto alle espressioni dei personaggi di Fallout e questa secondo me è stata la più interessante ma senza alcun dubbio ve ne porterò tante altre un'altra cosa che mi sento di dire Bethesda, avresti potuto lavorare molto meglio sono senza ombra di dubbio i nemici quando il nostro personaggio inizia a diventare più forte i nemici non è che si evolvino proprio con noi e quindi rendono il titolo intrigante o comunque ci danno del filo da torcere anzi, sono un po' stupidini anzi, sono un po' pochi anzi, non hanno delle grandi tattiche e anzi, non sono neanche così caratterizzati molto bene basti vedere questi NPC che si muovono per la mappa ma non hanno una vera e propria intelligenza, ok? sono un po' tutti uguali? un po' tutti anonimi? bene, perfetto per cercare di risolvere tutto questo ci pensano le mod la mod in questione si chiama Immersive Legendary Mutation essenzialmente è partita con una questione molto importante cercando di mutare e dare più possibilità tattiche ai nemici presenti all'interno di Fallout, ok? quindi hanno iniziato a dargli pattern diversi hanno iniziato a mettergli un'intelligenza leggermente più evoluta e poi si sono anche messi a renderli molto più belli dal punto di vista grafico il risultato è diciamo abbastanza soddisfacente in fin dei conti per quanto riguarda le texture avrebbero potuto sicuramente fare di meglio ma ci sono delle altre mod che possono fare sicuramente di meglio hanno sicuramente cercato di gestire meglio l'intelligenza artificiale hanno cercato indubbiamente di aumentare il quantitativo di nemici interessanti all'interno del mondo di gioco tutto quello che questo mod era fatto è descritto in questi punti e inoltre ci sono anche altri lavori quindi la mod non è finita io devo essere sincero è una di quelle meccaniche il fatto che i nemici non siano così tanto intelligenti o che in qualche maniera non siano così ben definiti o che comunque manchi di profondità il gioco in termini di difficoltà e biodiversità al suo interno che dico beh sì, ci voleva una mod del genere ed ora domandina semplice semplice perché non avere delle belle akimbo? ecco, un'altra cosa che non ho mai capito e non ho mai compreso è perché non posso equipaggiare che cavolo voglio come voglio, ok? che ne so? essenzialmente magari due pistole, ok? ma magari potevano essere anche determinati tipi di oggetti perfetto con la mod akimbo almeno le pistole possono essere imbracciate due contemporaneamente questa mod essenzialmente aggiunge cinque nuove armi non è stata in grado di poter modificare come il player decide di che ne so? utilizzare un'arma di un tipo e un'arma di un altro no, semplicemente la mod va ad aggiungere queste armi all'interno del mondo di gioco e voi potete scegliere se equipaggiare una pistola singola oppure un'altra arma che è appunto una pistola akimbo è un vero peccato che non sia riuscito appunto a gestire meglio e a permettere ai player di poter che ne so imbracciare una pistola laser da una parte e una pistola revolver dall'altra ma non ci lamentiamo è sempre un lavoro di un modder che ha cercato di portare una piccola feature all'interno del suo gioco preferito giusto perché voi lo sappiate se volete andarla a scaricare è completamente gratuito e si chiama Pix Akimbo Weapon Pack ultimo ma non ultimo io la mod Pack si chiama proprio così dopo andremo a vedere che cosa significa e che cosa fa beh quello che state vedendo in questo preciso momento io non lo so voi ma io non ho mai visto la città di Fallout con così tanti oggetti ebbene sì ci troviamo in un posto post apocalittico ho capito la vegetazione che magari non è proprio rigogliosa ma porca miseria alberi vegetazioni rovi varie ed eventuali o comunque altre cose che svolazzano al vento dovrebbero essere la bc no ti aspetti di trovarlo in un posto post apocalittico se per sé nella versione vanilla tutte queste rovi tutte queste infrastrutture sono troppo pulite per pensare che siano state abbandonate lì da tanto tempo e appunto la mod non fa dei cambiamenti dal punto di vista grafico semplicemente va ad aggiungere arbusti e dettagli vali ed eventuali per tutta la mappa di gioco vedete molti più arbusti sicuramente molti più rovi anche molti più dettagli guardate queste case questa è un fermo immagine direttamente preso dalla versione vanilla sono troppo pulite non c'è neanche una finestra rotta e ho capito questi alberi che sono secchi e sono morti ma alcuni dovrebbero essere abbattuti o comunque se lasciati assolutissimamente senza manutenzione dovrebbero essere rigogliosissimi o comunque grandi vari ed eventuali questi mi sembrano un po' troppo potati e troppo puliti erbacce muschio licheni oppure rovi alberi abbattuti dovrebbero essere l'abc all'interno di questo mondo ma fallout forse non ci ha pensato o per meglio dire gli sviluppatori non avevano pensato di creare un mondo anche sotto quel punto di vista bene non vi preoccupate la mod pack che si chiama project apocalyptic commonwealth fa esattamente questo non va ad aggiungere texture ma va semplicemente ad aggiungere muschi licheni alberi di varia forma varia natura e varia gravità all'interno del gioco essi non vanno a bloccare assolutissimamente niente tutto il mondo è agibile è interagibile come ben lo conosciamo però in un'ambientazione del genere almeno vedere che la vegetazione o qualcosa aveva iniziato a muoversi che aveva iniziato a inglobare il mondo che noi ben conoscevamo mi sembra una rappresentazione molto più normale molto più bella molto più veritiera di quanto Bethesda non ci abbia regalato con la sua versione vanilla ed eccoci qua quindi alla fine di questo video spero vivamente che vi piaccia spero vivamente che voi vogliate seguire i prossimi video su fallout e sulle mod e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao